I livelli scorrono veloci qui al Poker Live Adventure di Malta e vedete la sala che comunque rimane gremita per questo quarto livello di gioco. Come vedete qui davanti a me il curvone della morte con appunto Luca Castorina, Carmelo Vasta e Delfino qui davanti a me. Proviamo ad andare a seguire questa mano con Castorina che apre a 3.50 da Kato e trova i fold, quindi niente di fatto per lui in questa mano. Proviamo anche di intercettare Luca direttamente al tavolo e proviamo di strappargli qualche battuta al volo. Come stiamo andando durante queste prime fasi di gioco? Siamo alla pari, va bene. Com'è il tavolo? Hai trovato il curvone della morte qui? Però è meglio eh? Sicuramente. Poi hai posizione su di loro quindi insomma diciamo che ho subito qualcosa. C'è tempo. C'è tempo, esatto. Ci salutiamo. Ciao. Decidiamo appuntamente ai prossimi aggiornamenti della sala ragazzi, pokeritaliaweb.org per la cronaca live dell'evento. Ciao a tutti.